Oggi vi parlo di un colore bellissimo, il lilla. Il lilla deriva dalla pianta del lilla, che ha tante sfumature dello stesso colore. È un colore quindi che prende la sua derivazione dalla natura. È un colore che porta alla rilassatezza e alla cura della persona. Chiama il lilla è una persona che di solito ha bisogno di prendersi i propri tempi, i propri spazi, che ama la cura del seno. Non è una persona egoista, né una persona individualista, ma è di solito una persona che crede che dalla propria rigenerazione possa derivare anche una rigenerazione per lì. È un colore che giustamente ci riporta a quel giustissimo esercizio della pausa. È il colore quindi del rilassarsi, del prendersi tempo, magari in natura. È il colore che ci porta alla meditazione, all'osservazione dell'universo e alla ripresa dell'io inconscio.